Il santuario di Pompei, della Madonna del Rosario, con la piazza distante, con il campanile di 80 metri sulla sinistra e con una croce di bronzo sulla cima, la facciata in due ordini. Con la piazza, con il monumento a Bartololongo, con i pellegrini di oggi, il campanile, vediamo gli angeli al terzo ordine, la statua di Gesù, il terzo ordine di Gesù, venite me omnes, la croce. La facciata con la Madonna al centro, con la Pax 1901, l'orologio moderno e l'orologio antico dell'ameridiana. Il bacone della benedizione papale, il tutto dedicato alla Madonna del Rosario.